Buonasera, siamo in compagnia dell'ingegnere Franco Casamento, numero uno, lo possiamo dire, del Movimento Politico Noè, Movimento Politico nato da circa due anni a Geo Samarea. Oggi appunto facciamo innanzitutto un piccolo riassunto, diciamo così, delle attività portate avanti dal Movimento Politico Noè. Grazie per questa occasione, così come è stato anche in precedenza. Vabbè, non faccio l'elenco delle cose, diciamo, che ci poi definiscono che creiamo ostruzionismo, solo una cosa, tra Depuratore, Borgo San Francesco, Municipio, eccetera, riprendo una vecchia dichiarazione del Sindaco, dove una volta ha scritto che forse un consigliere comunale avrebbe avuto più visibilità, a discapito però dell'interesse collettivo, se oggi avesse potuto dire avevo regione io, il finanziamento è stato perso. Allora, siamo stati un attimino accusati, io parlo come Movimento, di addirittura intralciare i lavori del Borgo San Francesco, cioè noi siamo andati a Palermo all'assessorato, abbiamo chiesto di tutto, di più. Io personalmente ho parlato con il proprietario della ditta, e sono autorizzato a dirlo, dicendo, questa azione potrebbe recare dei danni all'inizio dei lavori? Lui ci ha detto assolutamente no, anzi, ci state aiutando perché l'interesse è quello, io che lavoro come impresa, voi volete eccetera eccetera. Quindi il fatto che addirittura veniamo accusati di in qualche modo intralciare le cose non ci va bene. Detto questo passiamo un attimino a quello che abbiamo un po' fatto. Allora, principalmente abbiamo cercato di scuotere un pochettino l'amministrazione puntando sul turismo. Noi abbiamo fatto più di una lettera, abbiamo fatto più comunicati, nella speranza che questo famoso turismo, di cui noi ci preggiamo a essere importanti qua e là, di fare veramente qualcosa di importante. Come? Il nostro Movimento sostiene che l'assessore al turismo, scusate, deve essere un professionista del turismo. Cioè non si può lasciare in un comune che si reputa turistico, un paese turistico, non dare mandato a un professionista. Oggi il sindaco ha la delega sia dell'assessore al turismo sia dell'assessore ai lavori pubblici. Non può essere per noi. Perché? Qual è allora la funzione dell'aggiunta? Ripeto, soprattutto in merito al turismo, perché di questo stiamo parlando. Addirittura noi pensiamo che una volta il sindaco aveva bisogno dei collaboratori, che sono i componenti dell'aggiunta. Oggi l'aggiunta ha bisogno dei collaboratori. Cioè noi a Gioiosa abbiamo delle grandi risorse, dei personaggi che sanno cantare, che sanno fare turismo. Abbiamo uno tra gli importanti, secondo me, persone che sono direttori d'albergo a livello nazionale, ma anche a livello locale. Abbiamo cabarettisti. Dobbiamo sfruttare, tra virgolette, se no poi mi dicono che dobbiamo sfruttare, tra virgolette, queste potenzialità per vedere se veramente si può fare qualcosa. Non le solite chiacchiere o le solite cose. Oltretutto noi abbiamo cercato di dare qualche input come? A livello di programmazione di turismo. Non dire è meglio che il 15 agosto viene Caglio e Notizia. No. Programmare oggi quello che si può fare, per esempio, in estate. Come? Intanto stabilendo che tipo di turismo è un turismo culturale, è un turismo enogastronomico. Quale? No così alla rinfusa. Ma questo l'abbiamo fatto, l'abbiamo detto in tutte le salse, però penso che non ci è stato dato ascolto perché alla fine non mi pare che abbiamo concretizzato nulla. Un'altra bella azione che abbiamo fatto, e qua mi ricollego a quello che ho detto prima col murgo, è segnalare bandi. Noi, se vedete anche con Facebook, non facciamo altro. Una volta che veniamo a conoscenza di bandi che potrebbero essere utili, li andiamo a segnalare. Noi stiamo facendo l'antipolitica perché addirittura qualcuno ci dice che facendo così si avvantaggia l'amministrazione. Perché è bene non segnalarle le cose, assolutamente no. Allora, i problemi che ci saranno oggi e che questa amministrazione purtroppo non sa affrontare e ne creerà altri, si ritroverà la futura amministrazione. Cioè se oggi non si risolve il problema, parliamo della depurazione, fra due anni, fra tre anni, se all'amministrazione ci sono altre persone che posso essere io, che puoi essere tu, e il problema oggi non viene affrontato, ce lo ritroveremo. E non potremmo dire all'amministrazione passata. È bene avere che quantomeno si sia iniziato un percorso della soluzione del problema. Ma questo non viene recepito dall'amministrazione perché viene inteso come invece uno scontro, come dire ah io sono più bravo di te, a me non mi interessa. Non avremmo segnalato i bandi, non avremmo fatto tutta quella guerra con il borgo o quella che stiamo facendo col depuratore, col municipio. Allora aspettiamo che queste cose non si fanno per dire ah non l'hai fatto. Non ci interessa a noi come movimento. Noi cerchiamo, certo, cerchiamo nei limiti del possibile, ma questo non ci interessa. Quindi i bandi per noi, i bandi soprattutto europei, li dobbiamo sfruttare. Dovemmo avere delle persone che fanno questo. Ora ho visto che qualcuno, grazie a Dio, mi sembra l'ultimo che era, ce l'ho parlato appunto per le aree degradate, il Comune ha partecipato. Noi l'abbiamo segnalato. Io non sto dicendo che è stato fatto perché l'abbiamo segnalato noi. Probabilmente è così. Però se io dico così è spot politico. A me non mi interessa lo spot politico. A me mi interessa, abbiamo segnalato oggi dieci bandi, domani segnaleremo l'undicesimo. L'importante è che si faccia. Poi dire che noi lo facciamo per spot politico, mentre l'amministrazione fa concretezza, non ci interessa. Noi abbiamo segnalato i bandi, li continueremo a segnalare. perché per noi una delle cose prioritarie per questo Comune è smuoverlo dal nulla. Quindi continuerete sempre sulla stessa linea politica? Quali saranno i vostri progetti per l'avvenire? Allora, ovviamente, lo diri tu? Va bene. Continueremo sulla strada che abbiamo fatto. Continueremo a segnalare i bandi. Continueremo a dire la nostra sul turismo. Continueremo a fare tutte lezioni che magari nascono, che oggi non sappiamo caso per caso. E soprattutto il nostro movimento apre, così come abbiamo detto in passato, a tutte le forze politiche, a tutti coloro che sono contro questa amministrazione, nel tentativo di fare qualcosa veramente di concreto, di passare un pochettino allo spot politico, di passare a qualche cosa di concreto. Tentare di fare qualche cosa, che è stato, diciamo, anche il motto personale e anche di coloro che erano vicini a me e a mia cognata per questa amministrazione. Tentare di fare qualche cosa. Punto. Un appello rivolto a tutte le forze politiche al di fuori dell'attuale amministrazione. Le elezioni si avvicinano. Nell'ultimo Consiglio Comunale, a proposito del bilancio, sono state anche chieste le dimissioni del sindaco. C'è stato un rinvio per far riflettere il sindaco. Lei che cosa ne ha pensato di questa proposta? Allora, io posso rispondere però a titolo personale perché non ne ho parlato con il mio gruppo. Io penso che non si deve dimettere il sindaco. Io penso che si devono dimettere tutti i consiglieri comunali. Tutti. Io infatti non vi nascondo che ho invitato più volte a mia cognata per prima a dimettersi. Perché? Perché secondo me così si fa solo del danno. Solo del danno. Anche il consigliere viene veramente svuota. Con questo tipo di amministrazione che si è creata. Con questo tipo di non si va da nessuna parte. Meglio dimettersi, parlare col Movimento Noè e programmare il futuro. Così allarghiamo non a quelli che sono fuori, ma allarghiamo anche a coloro che sono dentro l'attuale Consiglio. Quindi tutti a casa. Ma aspetti, siamo quasi a Natale, dovremmo essere tutti più buoni. un augurio per gioiosa. L'augurio per gioiosa è quello di fare qualche cosa per gioiosa. Però detto così è uno spot politico. Non mi piace. Detto così non mi piace. Facciamo qualche cosa. Facciamo tutti qualche cosa. Consiglieri, dimettetevi e dal 2 di gennaio iniziamo a costruire veramente qualcosa di serio. Via. Grazie.